Un gruppo di ragazzi, 5 per l'appunto, Mimmo Moio, Antonio Strati, Antonio e Stefano Bonfà e Pietro Jacopino, spinte dalla passione per la musica, danno vita a un gusto musicale. Quei ragazzi stasera, lo so, sono tutti su questa piazza e io e i miei compagni cogliamo l'occasione per ringraziarli, per averci dato modo con la loro iniziativa di portare in nome di questo gruppo su tutte le piazze della Calabria e anche oltre. Dopo qualche anno per vari motivi ognuno prende la propria strada, ma il gruppo è continuato ad esistere fino ad oggi. Con la nostra musica abbiamo attraversato tre generazioni e voi lo sapete, voi ci avete amati e forse anche odiati. Le nostre intenzioni erano buone, per tanti anni vi abbiamo portato fuori dalle vostre case per farvi dimenticare per qualche ora i problemi e le fatiche del giorno. E anche stasera noi siamo qua per dirvi grazie di tutto, anche delle critiche, soprattutto per quello che ci hanno fatto crescere e migliorare. Ma siamo anche qui per dirvi con la nostra musica che vi vogliamo tutti bene, nessuno escluso, perché siete le nostre origini e la nostra storia. Signori e signori, ormai come si ripete da 44 anni, su questa piazza merboi e pitagore.